Benvenuti nel mondo degli orologi Favre-Leba. Favre-Leba è un marchio di orologi di lusso svizzero con una lunga storia che risale al 1737, quando venne fondata Le Local, in Svizzera. Oggi, dopo più di 280 anni, Favre-Leba è una delle più antiche aziende di orologeria al mondo, che continua a mantenere la sua tradizione artigianale e a produrre orologi di altissima qualità. Favre-Leba è conosciuta per la sua innovazione tecnologica e la sua attenzione ai dettagli. L'azienda è stata una delle prime a introdurre orologi da polso con movimento automatico, e ha continuato a sviluppare tecniche e tecnologie all'avanguardia per creare orologi di altissima qualità. Grazie a questo impegno costante, Favre-Leba è diventata un punto di riferimento nel mondo degli orologi di lusso. La collezione di orologi Favre-Leba comprende una vasta gamma di modelli, tutti caratterizzati da un design elegante e raffinato e da una grande attenzione ai dettagli. Tra i modelli più noti di Favre-Leba ci sono il Raider Bati 120 Memo Depth, un orologio da immersione con una profondità massima di 120 metri e una funzione di registrazione della profondità, e il Raider Harpoon, un orologio da immersione con una lunetta girevole unidirezionale e una resistenza all'acqua fino a 500 metri. Ma la collezione di Favre-Leba non si limita solo agli orologi da immersione, ci sono anche orologi da polso classici, orologi da pilota e orologi da viaggio, tutti realizzati con la stessa attenzione ai dettagli e alla qualità. In conclusione, Favre-Leba è un marchio di orologi di lusso che unisce tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Grazie alla sua lunga storia e alla sua grande attenzione ai dettagli, gli orologi Favre-Leba sono un'ottima scelta per chi cerca un orologio di lusso di alta qualità.